Scusate l'intromissione ma è da ieri che sono veramente all'invito per quello che sta succedendo. Allora apro il Corriere della Sera e che cosa leggo? Che per iniziativa del COPASIR, che sarebbe il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, cioè l'organo istituzionale politico che deve controllare la correttezza del comportamento dei servizi segreti, per l'iniziativa di questo organismo, i servizi segreti si sono messi al lavoro per cercare di capire se in Italia agisce una rete che viene sostanzialmente manovrata dai russi per portare avanti le loro idee sulla guerra. Ora che cosa hanno scoperto questi servizi segreti dopo un lungo lavoro di indagine? E noi sappiamo quanto siano preziosi i servizi segreti nella storia del nostro paese. Hanno scoperto che ci sono una serie di opinionisti che la pensano in maniera molto critica sulla guerra. E quello che è più grave non solo hanno indagato su questi opinionisti, ma hanno anche indagato su alcuni parlamentari della nostra Repubblica. Ora si chiede che cosa hanno scoperto, oltre al fatto che questi opinionisti hanno delle opinioni diverse sulla guerra. Praticamente non hanno scoperto niente. Non hanno scoperto che i russi pagano queste persone per dire quello che dicono. Non hanno scoperto che c'è una rete di relazioni tra tutti questi opinionisti per cui concordamente portano avanti i loro discorsi. Non hanno scoperto un cavolo di niente tranne il fatto che questi opinionisti pensano che questo comportamento dell'Italia rispetto alla guerra in Ucraina sia sbagliato e che il nostro governo sbagli a mandare armi in Ucraina. Questa è la scoperta che hanno fatto i servizi segreti. Non hanno scoperto che c'è un'attività di spionaggio. Non hanno scoperto reati. Non hanno scoperto finanziamenti. Non hanno scoperto un cavolo di niente. Allora io mi chiedo, si può fare questo? Tra l'altro in questa scoperta annunciata dal Corriere della Sera di un rapporto che doveva rimanere riservato che era un rapporto dei servizi e che invece viene pubblicato con tanto di foto di ognuno dei protagonisti in questo elenco io non ci sono. Passano 24 ore e che cosa succede? Un altro giornale. Il giornale. Di proprietà di Silvio Berlusconi. C'è l'unico politico italiano che ha dormito nello stesso letto di Putin. Che ha condiviso il lettone con Putin. Ebbene, questo giornale scopre che non sono tutti questi indicati dal Copasir ma anche personaggi come me sono coinvolti nella costruzione di Forza Russia. c'è un partito filorusso, magari finanziato dai russi. Non si sa. Allora a questo punto non solo stiamo attaccando il diritto d'opinione ma stiamo attaccando anche il diritto politico di decidere di fare quello che si vuole come cittadini. Possiamo non indignarci rispetto a questa situazione? Cosa dicono i liberali? E soprattutto chi ha commissionato questa campagna di stampa? Perché il sospetto c'è che a commissionarla sia stato il governo, che a commissionarla sia stato Draghi. Ora, questo sospetto va cancellato. Cosa dice il governo? Cosa dicono i partiti che lo sostengono? Cosa dice il partito democratico di questo schifo che sta succedendo nel nostro paese? Perché se tacciono, sono tutti complici. E questo è un crimine contro la libertà. E un crimine contro la libertà di opinione. E soprattutto se il governo non smentisce o non fa pagare qualcosa ai responsabili di questo scempio vuol dire che ci troviamo di fronte ad una violazione pesante della Carta Europea dei Diritti che proibisce l'ingerenza di un governo nella libertà di espressione. Viva la pace!